Gentili telespettatori, buona giornata. All'Università di Napoli Federico II viene invitato il direttore di La Repubblica Molinari per fare un dibattito, un confronto con il rettore dell'università, solo che viene annullato l'evento perché degli studenti prima aggrediscono la polizia e poi fanno di tutto per impedire questo dibattito, questo libero dibattito con opinioni di tutti i tipi. Quindi studenti di sinistra impediscono a queste persone di parlare. Era successo anche per esempio al ministro dell'istruzione del merito Valditara che presentava il suo libro, gente gli ha gridato contro perché non si capisce bene il perché. Non era il libro di Vannacci, non presentava un libro come quello di Vannacci, presentava un libro su istruzione, merito, cose assolutamente condivisibili, almeno da me. Quindi è stato contestato da persone che gli gridavano. E Mattarella questa volta telefona a Molinari. Ma io mi chiedo, Mattarella aveva telefonato anche al ministro Valditara, aveva telefonato magari anche alla ministra Roccella, che aveva presentato un libro e le avevano impedito di presentarlo. Ci sono stati diversi episodi dove persone di sinistra hanno tentato e poi impedito la presentazione di vari libri. Anche il libro di Vannacci, quante volte hanno tentato di bloccare la presentazione, dibattiti, in alcuni casi ci sono anche riusciti. Mattarella ha telefonato a tutte queste personalità a cui è stato impedito di parlare? Che io sappia, no, magari mi sbaglio, ma io che leggo tutti i giorni i giornali, dalla mattina alla sera, non ricordo che Mattarella abbia telefonato, almeno notizie non ce ne sono state, che abbia telefonato a Vannacci, che abbia telefonato alla ministra del lavoro, che abbia telefonato al ministro Valditara, che abbia telefonato a Parenzo, proprio settimana scorsa gli hanno impedito di parlare. Non ricordo Mattarella o Quirinale che telefona per la solidarietà a queste persone, però per Molinari, direttore del giornale principale, fiancheggiatore della sinistra, subito Mattarella prende il telefono per condannare quello che è successo. E qui vorrei aprire una parentesi, ringraziamo quelli che hanno fatto rieleggere Mattarella, quando ci sarebbe dovuto essere oggi un presidente della Repubblica di area centrodestra, invece è stato rieletto Mattarella. Quindi poi ci lamentiamo di alcuni comportamenti, però lo abbiamo fatto eleggere. Bene, l'appello arriva appunto da Mattarella, che nelle scorse ore ha telefonato al direttore della Repubblica Maurizio Molinari, dicendogli che bisogna bandire l'intolleranza dall'università. Beh, è condivisibilissimo, democrazia è confronto, democrazia è scambio di idee. La democrazia non è intolleranza, intransigenza, tu stai zitto, tu non parli, tu non hai diritto di parola, tu non entri all'università, tu non entri a Firenze, ne abbiamo sentite di tutti i tipi. Tu non vieni in piazza, tu non sei gradito in piazza. C'è una parte della sinistra che ha un concetto di democrazia molto curioso, se mi permettete il termine. Loro credono che la democrazia sia semplicemente condannare tutto quello che succede all'interno della sinistra, ma se succede fuori dalla sinistra allora facciamo finta di nulla. Soprattutto la democrazia, secondo la sinistra, si svolge all'interno della sinistra. A destra la democrazia non vale, perché loro sono quelli che non hanno studiato, sono quelli che non leggono, sono quelli che sbagliano a scrivere, a parlare, quindi non meritano niente e se succede qualcosa a loro, vabbè dai, sono quelli cattivi, quindi la democrazia insomma quando si parla di cattivi potrebbe essere anche sospesa. Quindi oggi Mattarella dice all'esponente del giornale fiancheggiatore della sinistra che bisogna bandire l'intolleranza dall'università. Sono d'accordo Presidente della Repubblica Mattarella, sono d'accordo, però lei ha telefonato anche a tutti gli altri a cui sono successe cose simili, che io sappia no, magari lei ha telefonato, sicuramente avrà telefonato a tutti, Parenzo, Valditara, Vannacci, La Roccella, sicuramente lei avrà telefonato a tutti, perché lei è il Presidente della Repubblica di tutti, quindi sicuramente avrà telefonato a tutti perché lei non fa distinzione tra direttore del giornale fiancheggiatore di sinistra e generale Vannacci, non credo, perché quando si parla di libertà di espressione, di intolleranza bisogna applicarla a chiunque, al libro del Ministro Valditara, al libro del generale Vannacci, anche se magari quello che scrive il generale Vannacci non può piacere a tanti di sinistra, però avrà il diritto di presentare il suo libro, di fare un dibattito, quindi io sono sicuro che Mattarella avrà telefonato a tutti quanti, solo che i giornali non l'hanno detto, io purtroppo non ho trovato le notizie della telefonata di Mattarella come ha fatto per Maurizio Molinari, mannaggia questi giornali che non hanno mai scritto di queste telefonate, ma io sono sicuro che ci saranno state perché Mattarella è il Presidente di tutti, è assolutamente imparziale, quindi come ha telefonato a Molinari sono sicuro che lo ha fatto. Bene, quindi ha telefonato a Molinari cui questa mattina è stato impedito di svolgere una conferenza in una sede universitaria, esprimendogli solidarietà, lo si legge in un comunicato del Quirinale. Ah, caspiterina, è proprio un comunicato ufficiale del Quirinale, bisognerebbe andare a leggere tutti i comunicati ufficiali del Quirinale degli ultimi tempi per andare a trovare le solidarietà espresse anche per le altre personalità a cui è stato impedito di parlare o di presentare un libro, ma sono sicuro che ci saranno, è sicuro come ne sono certo. Il Presidente dice, ha aggiunto che quel che vi è da bandire dalle università è l'intolleranza, perché con l'università è incompatibile chi pretende di imporre le proprie idee impedendo che possa manifestarle chi le pensa diversamente. Fate un applauso a Mattarella, però, Presidente, questo deve essere applicato a chiunque, anche al generale Vannacci, perché è libero di esprimere in democrazia le sue idee anche se non piacciono. Arrivederci a tutti e grazie.